Bentornati, 55esima puntata delle colonne d'Ercole. Allora, la volta scorsa vi ho dato una sorta di infarinatura sul cinema di Kubrick e vi ho cercato di trasmettere il valore che lui dava alla musica presente nei suoi film e come la approcciava e come la gestiva. Se volete rivedervi la puntata trovate il link in descrizione, qui sotto se siete su YouTube e qui sopra se siete su Facebook. Dubbiamente una persona, come dire, non solo un ego smisurato come quello di Kubrick ma anche un control freak come lui, un padre padrone come lui che aveva sempre avuto rapporti molto difficili con gli attori, con il direttore della fotografia, con tutti i membri della troupe, ovviamente aveva un rapporto complicato anche con i compositori. E oggi faremo appunto il focus su film probabilmente più famoso, cioè 2001 Odissea nello spazio. Allora, come abbiamo visto la volta scorsa, Kubrick aveva una grande conoscenza molto approfondita della musica classica, anche della musica contemporanea e in particolare aveva una predilezione per Karl Orff, compositore di grande successo che con i suoi Carmina Burana aveva veramente avuto ai tempi e a tutt'oggi un successo enorme, soprattutto col celeberrimo O Fortuna, che è stato utilizzato in mille film horror, in mille trailer, in mille pubblicità, è stato veramente che è uno dei pezzi più sincronizzati della storia del cinema. Galvanizzato, come dire, e grande fan di Orff, Kubrick gli chiede di comporre, era ancora vivo ovviamente ai tempi, gli chiede di comporre la colonna sonora per il suo film. Orff gentilmente declina l'offerta, dice insomma che è anziano, che non se la sente di affrontare un impegno così gravoso come scrivere una colonna sonora per un film, in realtà aveva una settantina d'anni, non è che fosse una mummia, e anzi vivrà fino a 87, quindi insomma l'idea che mi sono fatto io e che secondo me Orff ha capito il soggetto, ha capito che veda davanti, ha capito che sarebbe andato incontro a una serie di enormi problemi, in un campo tra l'altro come le colonna sonora in cui lui non era sicuramente un esperto, per cui secondo me ha declinato con la scusa sono un po' stanco e forse ho già altri impegni, diceva Elio, per declinare l'offerta e dire se vuoi o fortuna o qualunque altra cosa vuoi la prendi, la sincronizzi, la paghi e l'abbiamo risolta così. Tramontata l'ipotesi Orff, sembra che Kubrick sia rivolto a Dick Reimachers, compositore che i tempi insomma godeva di una certa notorietà, dico sembra perché in realtà non ci sono come dire testimonianze precise di questa cosa, Reimachers dice che Kubrick l'ha contattato però di aver declinato, insomma quindi vi do questo dato su quale però io personalmente non metto la mano sul fuoco. Un altro pezzo insomma che Kubrick amava particolarmente era la terza sinfonia di Mahler, che forse è la sinfonia più complessa del grande compositore, in più c'era anche un collegamento con la filosofia di Nietzsche, insomma che in 2001 dice nello spazio ha veramente insomma un suo posto preciso nella narrazione, nella filosofia sottostante al film. Quindi chiede a Frank Cordell di adattarla al film. Cordell lavora per più di un anno ad analizzare, montare, perfino riregistrare alcune parti della terza sinfonia di Mahler per poterla adattare alle scene di 2001 dice nello spazio. Ma alla fin fine Kubrick non prenderà niente di tutto questo lavoro, quindi un anno intero di lavoro verrà praticamente buttato via. Nel film quindi come da decisione di Kubrick finiranno una serie di pezzi classici, famosissimi come il Bel da Nubia Blu di Johan Strauss figlio, Azosprakt Zarathustra di Richard Strauss che in realtà insomma era un pezzo contemporaneo o insomma poco più che contemporaneo, che è un pezzo che poi si è talmente legato al film che tanti pensano che poi in realtà sia la colonna originale del film. Tant'è vero che facendo ascoltare Azosprakt Zarathustra a una persona che non conosce bene la musica classica e dice che cos'è questa roba qui? Lo dicono in 2001 risenno spazio, in realtà ovviamente era un pezzo preesistente. Vengono utilizzate anche le musiche di Georg Ligeti e qui c'è un piccolo giallo perché Ligeti dirà da un lato di essere stato lusingato dall'utilizzo che Kubrick aveva fatto delle sue musiche, dall'altro lato però si lamenterà perché disse che non aveva praticamente visto il becco di un quattrino. Questa cosa è molto strana, è molto strana perché fondamentalmente quando si fa un film si possono prendere musiche sia di pubblico dominio sia sotto diritti ma si fa quello che si chiama la sincronizzazione, cioè si paga fondamentalmente una cifra che viene concordata con l'editore per l'utilizzo della musica nel film. Quindi mi sembra difficile che una grossa produzione come Metro Goldiemeyer si sia imbarcata in un film così importante prendendo un pezzo senza pagare la sincronizzazione. Voglio credere che Ligeti non credo che avesse motivo di dire una bugia ma forse secondo me la cifra se l'è intascata l'editore non credo ecco con tutti i problemi come dire che poteva avere Kubrick non credo che si sia rifiutato di pagare la giusta sincronizzazione anche perché fare una cosa del genere potrebbe anche poi portare a conseguenze legali a bloccare l'uscita del film quindi mi sembra francamente che secondo me nel passaggio di quei soldi qualcuno li ha fatti sparire. Nonostante la ferma intenzione di Kubrick di non utilizzare quindi nulla di originale la Metro Goldiemeyer insiste per avere un grosso nome che scriva la colonna sonora di 2001 Odissea allo spazio e ingaggia Alex North che abbiamo già visto la scorsa puntata quando abbiamo parlato di Spartacus film per cui lui aveva scritto la colonna sonora tra l'altro una bellissima colonna sonora quindi si conoscevano già insomma sapeva già delle come dire difficoltà come dire relazionai di Kubrick e quindi insomma viene ritenuto essere la persona giusta per poter portare a termine portare a termine questo film così impegnativo tra l'altro North è stato un grandissimo compositore di musica di musica da film e non solo anche di canzoni la famosa Unchained Melody la scritta Lou insomma che già solo quella gli ha dato una notorietà enorme però insomma era veramente un signor compositore di colonna sonora North quindi accetta e con grande entusiasmo non solo perché comunque Kubrick già nel 1968 è visto veramente come un maestro del cinema ma perché scopre praticamente che avrebbe voluto scrivere una score per un film lungo però con soli 25 minuti di dialoghi cioè il sogno di qualunque compositore di colonna sonora scrivere la musica per un film dove la musica si senta e non sia coperta sia coperta dai dialoghi quindi grande spazio per la musica meraviglioso North si mette direttamente subito in pista per poter scrivere la colonna sonora parte da New York raggiunge Kubrick a Londra tra l'altro forse sapete che Kubrick aveva tra le sue tante fissazioni aveva la paura di volare per cui tutti i film li doveva girare in posti dove non fosse necessario prendere un aero per raggiungere pensate fino a Full Metal Jacket il Mekong che vediamo in realtà il Tamigi le palme le palme erano state portate dall'Africa insomma quindi tra le tante stranezze di Kubrick c'era quella appunto di non volere assolutamente prendere aerei quindi non c'è problema North invece non ha problemi di questo tipo prende il suo aereo e arriva a Londra da Kubrick Kubrick e convertiamo già male perché Kubrick gli dice che intenderà mantenere delle time tracks cioè appunto come abbiamo visto altre volte quelle tracce temporanee che vengono scelte per dare un inizio di sonorizzazione di sonorizzazione al film lui ne è un po' seccato francamente perché ai tempi l'idea di tenere di alternare una score originale con dei pezzi di repertorio era ritenuta veramente balzana e per un compositore potrebbe essere anche offensivo che si volesse abbinare la sua musica con un'altra musica fosse anche di un grandissimo compositore fosse anche del Beethoven la situazione perché implicitamente voleva dire mettiamo una cosa perché tu non sei capace di scrivere una musica di altrettanta bellezza o di altrettanta struttura o utilizzabilità o quello che vogliamo comunque siamo ai tempi mentre oggi è pratica comune insomma che ci siano musiche di diversi autori sullo stesso film ai tempi insomma era una cosa assolutamente ritenuta irrituale diciamo così North fondamentalmente che cosa dice? dice va bene a te piacciono questi pezzi li hai montati provvisoriamente sul film ma io ti posso fare una musica che abbia la stessa impatto emotivo che abbia gli stessi sync che abbia le stesse come dire la stessa forza narrativa di queste musiche quindi non serve che teniamo queste ho capito quello che stai cercando io ti faccio un qualcosa del genere guardano quindi il film un'ora di film check un'ora di montato e North si mette subito al lavoro il 24 di dicembre per andare in studio il primo di gennaio quindi come dire si fa le vacanze le vacanze di Natale chiuso nel suo studio a lavorare gli viene dato un appartamento dove sono fornito di tutto non solo il pianoforte ma strumentazione per poter registrare tutte le comodità insomma lo si mette nella condizione di poter lavorare nella massima tranquillità e nel massimo nel massimo agio lui lo fa intensamente talmente intensamente che racconterà che questi giorni gli abbiano dato spasmi muscolari problemi alla schiena e che addirittura quando andrà a registrare il primo di gennaio quindi dal 24 di dicembre al primo di gennaio quindi insomma decine di giorni scarsi dovrà andarci in ambulanza per il mal di schiena eccetera eccetera in realtà non lo sta ai tempi aveva 58 anni quindi insomma se uno sente stare qui si immagina una mummia decrepita in realtà aveva 58 anni comunque si diciamo che che insomma che questa è la narrazione che ha dato lui e noi non abbiamo ragione per non credergli il primo di gennaio sono in studio registra fa ascoltare fa ascoltare la musica che ha scritto per l'inizio del film e ne propone a Kubrick due alternative due opzioni insomma un'opzione A e un'opzione B Kubrick sceglie una delle due e North è entusiasta perché è esattamente quella che anche lui preferiva e per cui si dice bene abbiamo iniziato col piede giusto c'è sicuramente unità di vedute abbiamo la stessa visione del film quindi sicuramente porterò a casa questa colonna sonora nelle due settimane successive quindi inizio di gennaio praticamente North compone e registra circa 40 minuti di musica nel frattempo ritocca qualcosa di quello che ha scritto spesso sul suggerimento di Kubrick stesso che diceva ma qui facciamo più così più così più cosà tutto sembra procedere nell'alveo della normalità di un film è assolutamente normale che un regista poi figuriamoci un regista meticoloso e maniacale come Kubrick ti dia delle indicazioni delle specifiche preferisca una cosa piuttosto che un'altra ma è assolutamente è assolutamente la norma registrati questi 40 minuti di musica c'è la sessione di febbraio e ci sono 11 giorni di silenzio in cui North si continua a scrivere ma non ha più notizie né da Kubrick né dalla produzione né niente e questo è sempre un pessimo segnale quando non ti rispondono al telefono è sempre è sempre un pessimo segnale per cui prima di andare in studio di ristrazione North riceve la telefonata da Kubrick che gli comunica che non utilizzerà la musica scritta non solo l'ultima neanche la precedente neanche la prima proprio non userà niente della musica scritta da North Kubrick gli dirà che la sua scelta è quella di non musicare una gran parte delle scene presenti nel film dopodiché in alcune interviste di anni successivi Kubrick dirà che non era stato assolutamente soddisfatto della corona sonora di North e che quindi essendo uscita vicino all'uscita del film non aveva avuto il tempo di rivolgersi ad un altro compositore non sappiamo se è vero o non è vero insomma sta di fatto quello che sappiamo per certo è che North la prende molto molto male che dirà che questa era stata la sua più grossa delusione professionale della sua vita ma sta di fatto che di tutti questi oltre 50 minuti incisi e composti da Alex North neanche un secondo finirà sulla corona sonora di 2001 odissea nello spazio la Rejective Score verrà invece registrata su un cd nel 1993 dal grande Jerry Goldsmith che di North era stato un allievo in conclusione sul talento e sulla genità di Kubrick ovviamente non si possono mettere dubbi sta di fatto però insomma che il fatto che lui abbia avuto problemi praticamente con tutti i compositori con cui ha lavorato e che abbia comunque sempre in ogni caso piegato loro ai suoi voleri da un lato può essere visto come un sintomo di grande personalità e anche di una visione artistica estremamente chiara che lui ha voluto portare avanti insomma dall'altro lato vedere comunque dei signori professionisti bistrattati costretti a lavorare in condizioni sicuramente dure per poi vedere una minima parte del proprio lavoro sul film o neanche quella insomma comunque dispiace naviganti ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo argomento che non vi svelo ma che scoprirete tra pochi giorni alla prossima